Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 6 dicembre 2016 Fano TV canale 17 in diretta siamo sono le 7.30 Allora cominciamo subito a vedere il santo di oggi, oggi è un santo famoso, oggi è San Nicola di Bari San Nicola insomma adesso di Mira e Bari Il sole è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 16.33 Per quanto riguarda il tempo non c'è granché da dire, devo dire la verità, stamattina per i prossimi giorni Questa è una situazione che ritroveremo anche per domani e dopo domani Avremo un cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con la presenza di nuvole basse Attenzione alle foschie durante le ore più fredde della giornata Le temperature sono senza variazione di gli idiamo Sia oggi che mercoledì, che giovedì 8 dicembre Che è una giornata di festa in cui le temperature scenderanno un po' Cominciamo dal resto del Carlino Ricci, il futuro è un rebus Il dopo referendum, Renzi si dimette da Premier, il Sindaco Non avremo mai un governo così vicino a noi, vicino alla città di Pesaro Finanziamente a rischio e i grillini inneggiano al Ciaone Fusione tra i comuni, il PD non sente ragioni La Regione Marche dovrebbe dare il via libera anche con il no di Montemaggiore E questa è una di quelle cose che davvero fa venire voglia di andare a vivere in un altro paese Ridotte le paese inteso come in un'altra nazione Quando fanno queste azioni così imposte dall'alto Quando la politica tappa le orecchie e va avanti senza tener conto minimamente del parere dei cittadini Trasporto pubblico sempre più caro Eliminate gli sconti per noi pendolari Ridotte le agevolazioni per i bus extraurbani Minimi ISE impossibili per tutti i dipendenti E questa è la prima pagina del resto del Carlino Non avremo, diceva Ricci, insomma dice Ricci il sindaco di Pesaro Non avremo più un governo così vicino alla nostra città Il sindaco è preoccupato anche per i finanziamenti Potrebbe saltare in via dell'Acquedotto Potrebbe saltare il maxiprogetto di recupero L'aumento dei fondi promesso dal Premier Dunque ci saranno ancora questi soldi promessi dal Premier Matteo Rezzi E' certo che la città di Pesaro ha, come dire, anche se di poco per 99 voti Insomma 99 voti non sono poi così tanti Però è uno su due alla fine Ha girato un po' le spalle al sindaco di Pesaro Matteo Ricci Il rapporto tra Ricci e il Premier ha portato allo sblocco del patto di stabilità E ha aperto altri canali di finanziamento Quindi i pesaresi avrebbero dovuto pensarci un po' Un po' meglio forse Fare un po' gli egoisti Il bocciodromo comunque si farà Dice, anche se dovessero saltare i finanziamenti statali Il Comune ha stanziato un milione e mezzo di euro per la struttura sportiva E vedete qui in basso Matteo Ricci con il Premier Matteo Renzi La pagina di Fano del resto del Carlino Don Ruggeri, 5 anni di recupero I giudici del Vaticano dopo il caso e la condanna Il prete finito nei guai per attenzione nei confronti di una sedicenne Rischiava la riduzione allo stato laicale Sotto, Fanghiatorrete e Porto, proroga di un anno I consiglieri di 5 Stelle, Marta Ruggeri e Giovanni Fontana Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino Gospel, coro per un concerto per i 20 anni Oggi alle 21 al Politeama 30 cantori sul palco per l'evento 4 lustri per il coro Slave Song di Fano Classici e canti di Natale Arrangiati dal maestro Emilio Marinelli Questa è l'altra pagina del resto del Carlino Sotto a processo caso Grisli La giunta tollera l'illegalità della sinistra Stefano Poligioni di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Dice la delibera, prevede occupazione a tempo E ancora, siamo sulla fusione Colli al Metauro Il Partito Democratico vuole tirare dritto Il no di Montemaggiore sarà bypassato Capite perché perde il Partito Democratico? Il Sindaco convoca il Consiglio per dare forza Per dare forza al sì della Regione L'arroganza dell'operazione è palese Dunque il referendum è inutile Soldi buttati Mi pare che siano stati spesi 40.000 euro Mi dicono Per questa operazione referendum Il voto dei cittadini deve contare sempre di meno E qui è vero C'è poco da dire Però oggi, lo ricordo C'è questo pullman che andrà Da Montemaggiore al Metauro Andrà verso la Regione Perché c'è il Consiglio regionale Dunque si faranno sentire Vedremo che cosa riusciranno a portare a casa Ok, questa è la pagina del resto del Carlino Andiamo ancora avanti Sull'altra pagina Quella di Fossombrone Medie ed elementari La guerra delle dirigenze I grillini vogliono farne una Al posto di due Ma l'opposizione protesta La consigliera Cipriani dice Ci sono i numeri per due Il Sindaco invece Ma i poli vanno uniti Il ragionamento del Sindaco Bonci Così avremo finalmente un preside fisso E al massimo verrebbe trasferito un segretario Guardate ragazzi Che spettacolo della natura Anche se la natura ci ha messo solo il ghiaccio Il resto del ferro l'ha messo l'uomo E ha fatto questa croce Che si trova sulla Catria Gita notturna a meno di 10 gradi centimetri In presa di 4 spavaldi Sono Mirko Ravaioli Mirko Marsili Jonathan Giovannini E Manuel Valenti Che verso le 23 hanno raggiunto la quota Dei 1.702 metri sotto la grande croce Del Catria E l'hanno immortalata Con tutto questo ghiaccio e neve Insomma poi A meno 10 gradi Insomma Ok Allora andiamo adesso Sulla pagina di Fano invece Del Corriere Adriatico Cambiamo giornale Eccola qua Il titolo d'apertura Fondo Cives Svolta sull'accordo Boccata d'ossigeno per l'edilizia Appartamenti a Gimarra Housing sociale Nuova piscina Effetto domino Da 20 milioni Il sindaco Seri dice Ci saranno investimenti Per la riattivazione dei comparti Che in questo momento Sono bloccati Sono fermi Santa Barbara Ieri la patrona Della Marina Militare Artificieri E dei Vigili del Fuoco Questa cerimonia È stata dedicata Ai terremotati Fanghi a Torrette I 5 Stelle Inchiodano Seri Sulla proroga Quella di un anno I metri cubi Da 40-42 mila Solo grazie a Senigallia Che ha risolto Il dragaggio Città dei bambini Sempre da Fano Inizia il futuro Ora si svela Il nuovo percorso A Sant'Orso Domani arriveranno Dirigenti e presidenti Di enti Da tutta Italia Il quartiere diventerà Laboratorio Nel 2017 Parte l'ampliamento Dei percorsi pedonali La nuova scuola Di Cucurano e Carrara Ormai ci siamo È realtà L'appalto al binomio Ital Service EBS Edile Italia Nicolelli Del PD Dice Sarà un'eccellenza Ancora Salvamento Sempre dalle pagine di Fano Del Corriere Adriatico Salvamento Nolfi in prima fila Così avremo scuole più sicure Il liceo Sposa l'iniziativa Gli studenti impareranno A gestire un'emergenza E soccorso I corsi Partiti sabato Sono ottenuti Dai strutturi medici E biologi marini Per quanto riguarda La confraternita Del Brodetto Invece Elogio alla gastronomia Presentate gli incontri Dall'olio A chilometro zero Alla crisi Della pesca Qui vedete il presidente Della confraternita Valentino Valentini Con Gian Mattei Ok Ancora Dal quotidiano Delle Marche La pagina della Valle del Cesano CUP Il centro unico Di prenotazione Parliamo di sanità Lista d'attesa Fino al 2019 Pensate Non posso fare accertamenti Denuncia Un Residente di Orciano L'alternativa Qual è? Ormai lo sapete tutti Pagare 300 euro Comunque Tira fuori i soldi E andare in una Clinica privata Tempo d'attesa Zero secondi Modifica dello statuto Il comitato propone Le consulte Il segretario Siamo a Mondolfo Ceccarelli Spiega i servizi Sociosanitari Per i diversamente Abili Cumulo di rifiuti Abbandonati Siamo sempre Nel comune di Mondolfo Ci sono calcinacci Materiale Anche sospetto Scoperti sotto Un telone Alla fermata Dell'autobus Praticamente Una discarica abusiva Dietro la siepe La vedete in questa immagine Fotografata E pubblicata Sul Corriere di Oggi Un negoziante Della zona Dice Di notte Qui non si rispettano Le regole Servono le telecamere La Cioccovisciola Siamo a Pergola Invece di Natale Di Natale alla vita Indiretta La troupe della RAI Si è poi fermata A Casorci Anche frontone Nel servizio Senigallia Sostano Nei posti Dei disabili Per bere L'aperitivo In centro storico Toleranza zero Con gli automobilisti Indisciplinati E fioccano Le multe Questa è la pagina Di Senigallia La politica invece Il dopo referendum Andiamo velocemente Intanto sulla prima pagina Del Corriere Adriatico Non l'abbiamo ancora vista Eccola qua Referendum Il grande caos Dopo i 5 no Delle Marche Il Partito Democratico In silenzio Atteso uno tsunami Il segretario Comi Dice Morale a terra Non è stato Un 60 a 40 Come quello registrato A livello nazionale Ma un più tenue 55 a 45 Pur tuttavia La debacle Per Matteo Renzi E il suo governo È netta Anche nelle Marche E senza appello In tutte e 5 Le province Il segretario Comi È a pezzi Siamo con il morale A terra Sul partito È atteso Uno tsunami Il Partito Democratico Si consola Perché conserva L'elettorato Delle regionali Ma poi come dicevo Basta vedere Come si comportano Con i cittadini Quando fanno il referendum E poi non ne tengono conto Perché nelle segrete stanze Fanno come gli pare È chiaro che Sarà sempre peggio E andrà sempre più in basso Le Marche hanno votato così Invece C'è un quadro Con tutto alla grafica Tutte quelle che sono Le percentuali di numeri Provincia per provincia Avete visto Come dicevamo A Pesaro Anche nel servizio di ieri Su Occhio alla Notizia I sì In provincia di Pesaro Sono 47,56 Per il no Per il sì Scusate E 52,44 Per il no Dunque anche in questo caso Un discreto vantaggio Del no L'unica differenza La fa E lo dicevamo Anche ieri Urbino Dove invece In controtendenza Nonostante il sindaco Sia di centrodestra Appunto Si è andato Al sì Il vantaggio Quindi Urbino Hanno votato più per il sì Che per il no La rivincita Della minoranza PD Tra schiaffi e consolazione Questa è l'altra notizia Che troverete a pagina Come in primo piano Sul Corriere Sul Corriere Adriatico Silenzio Fiducia E tensione Nel partito Tutto è in ballo La finta camomilla Del day after Sullo sfondo Invece Ci sono Tanti Tantissimi Mal di pancia E l'onorevole Morani Dice Onori e oneri A chi ha vinto Aspettiamo le loro proposte Ora si apre Una Nuova fase E C'è un'altra notizia Ecco Anche qui Sempre da Pesaro Un no Per un pugno di voti Dicevamo a Pesaro 99 elettori Impallinano E sì La riforma Silurata In 45 comuni Su 59 L'amarezza del segretario Del PD La Lega Battuta d'arresto Dice Per Ricci E compagni Maggioranza e opposizione Nessuna ricaduta A livello Locale Certo Se a Pesaro Almeno Pesaro Dopo la lunga Campagna Referendaria Fatta dal sindaco Matteo Ricci In tutta In tutta Italia Compresa la sua Città Se avesse vinto Il sì Sarebbe stato Almeno Una magra Consolazione Ma almeno Un minimo Ci sarebbe stato Una vittoria eclatante Sconfitti Gli utili Idioti Invece Parla Giovanelli Della minoranza Dei democratici La minoranza Dema ha difeso La Giovanelli Ha difeso La Costituzione Ricci Chiede le elezioni In primavera Mi auguro Invece Che si tengano Nel 2018 Dice L'ex Parlamentare Con il dente Avvelenato Oriano Giovanelli A Fano Invece Registriamo La delusione Del sindaco Seri Che dice Referendum Troppo politicizzato Rispetto Ai contenuti Ma ormai Ce lo siamo detti In tutte le salse L'errore enorme Che ha fatto Matteo Renzi È stato quello Di appiccicarci A un referendum Che tutto sommato Poteva essere anche Interessante Per i contenuti Appiccicarci La parte politica E soprattutto La sua figura Ma questo ormai È storia È tutto Grazie per averci Seguito Ci rivediamo stasera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti